20 gol, un solo 0-0, quello tra Monza e Bologna, una vittoria esterna, quella ottenuta dalla sorprendente San Benedettese a Cagliari, conferma dell'ottimo momento del Brescia che ora guida la classifica con 9 punti insieme alla San Benedettese, Arcesena e alla Lazio che ha vinto il confronto al vertice con la Triestina. Questi i contenuti tecnici e numerici della sesta d'andata del campionato di Serie B. La sfida dell'Olimpico era certamente il big match della giornata e la Lazio se l'è aggiudicato grazie ad una doppietta di Garlini, passato a condurre la classifica dei cannonieri della Serie Cadetta. La partita è stata sempre incerta, combattuta ed emozionante e le due formazioni hanno confermato giuste ambizioni di promozione davanti ad una grande platea degna della massima serie. 20 gol abbiamo detto ve li presentiamo cominciando naturalmente da quelli dell'Olimpico. La Lazio passa in vantaggio al 37esimo con un bel colpo di testa di Garlini. Pareggia prima dell'intervallo la Triestina grazie ad una gran botta di Di Giovanni. Il gol della vittoria laziale giunge nella ripresa e lo firma ancora Garlini, certamente uno degli uomini più in forma della squadra di Simone.